Se state avendo difficoltà a scaricare e installare gli ultimi aggiornamenti lasciati per la versione Windows 11, versione 24h2, come per esempio il KB5044284, installazione è riuscita il 10 di ottobre, quindi se stai avendo problemi a scaricare e installare questi aggiornamenti è possibile fare un'installazione completa da capo di Windows 11 mantenendo tutti i file. Ovviamente in questa guida io ho realizzato, tipo che non mi uscivano gli aggiornamenti di Windows 11 24h2, quindi ho dovuto per forza scaricare e installare da capo Windows 11 mantenendo tutti i miei file sul computer. Perché una volta scaricato e installato, come puoi vedere ho scaricato e installato Windows 11 mantenendo i file, poi dopo tanti riavvi sono tornato così sul desktop, vado su disponibilità aggiornamenti ed eccolo qua, ed ecco che mi esce così l'aggiornamento da fare di Windows 11. Quindi se tu vai su Windows 11 download, eccolo qua, crea il supporto di installazione per Windows 11, scarica e installa e puoi anche guardare questa guida su come fare un'installazione completa. Se invece non vuoi fare così e ci sono anche altre soluzioni per risolvere il problema dell'aggiornamento rilasciato su Windows 11, in descrizione ti ho lasciato così un comando da inserire su un documento di testo, quindi tasto destro su desktop, nuovo, documento di testo. Puoi anche chiamarlo come vuoi, basta che è un documento, entriamo così nel documento, quindi vai a prendere quello che ti ho lasciato in descrizione, da netstopbids fino a netstart, fai copia, lo incolli qua, senza spazi, deve stare sopra, file, salva con nome, tutti i file, e qua scrivi fix.pat, una volta fatto ci clicchiamo sopra, facciamo sì, andrà così a ripristinare Windows Update arrestando il servizio avviandolo di nuovo e scaricando nuovi aggiornamenti, facciamo sì e fai invio. Una volta fatto ora vai su Windows Update verifica disponibilità aggiornamenti e riprova di nuovo a vedere se ci sono degli aggiornamenti da fare e se te li fa anche installare. Se non dovesse funzionare vai direttamente su gestore file, disco locale C, Windows, scendi fino a giù fino a trovare così la cartella software distribution e prova così a cancellare tutti gli aggiornamenti che hai scaricato e che non sei riuscito a installarli, quindi riscarica di nuovo gli aggiornamenti, quindi basta che tu cancelli tutti questi file che stanno nella cartella download. Se non funziona vai direttamente su servizi, vediamo se il servizio di Windows Update è attivo perché se è arrestato vuol dire che Windows Update non funziona, Windows Update è in esecuzione. Quindi stato del servizio è in esecuzione, faccio un attimo, interrompi, se sta su arrestato tu clicca su avvia, tipo di avvio, metti manuale e fai applica. Un altro comando che ti ho lasciato in esecuzione per fare tipo un aggiustamento per riparare un po' il disco dove andiamo così a installare Windows Update, quindi vai su PowerShield, quindi scrivi PowerShield qua sopra, Windows PowerShield e segui come amministratore. Sempre in descrizione ti ho lasciato così quel comando, un altro comando da inserire. Eccolo qua, Dismoline Cleanup Image, questo qua, e metti qua sopra. Strumento, gestione e manutenzione immagini. Operazione di ripristino riuscita, ora basta che scrivi direttamente Exit qua sopra. Ora, se non dovesse funzionare, possiamo direttamente riparare i file danneggiati sul nostro sistema attraverso il CMD. Scrivi qua sopra CMD, che apparirà il prompt dei comandi, tasto destro sopra, e segui come amministratore. Facciamo sì. Scrivi qua sopra, sfc, sfc, spazio slash, scan. E aspettiamo. Ha trovato così dei file danneggiati sul sistema e li ha pure ripristinati e aggiustati. Quindi in questo caso abbiamo risolto anche i file danneggiati sul sistema. Per altri problemi ancora, controlla sempre se la verifica disponibilità aggiornamenti ti fa uscire nuovi aggiornamenti da fare. Come ho detto, se hai scaricato l'aggiornamento e non te lo fai installare, riprova a riscaricarlo cancellando la cartella in software distribution, in download. Grazie a tutti per questa visione. Noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.